Aperitins è un evento organizzato da noi ragazzi dell'alternanza scuola lavoro di Palazzo Grassi e quindi siamo in dieci ragazzi che abbiamo organizzato un aperitivo sul pontone di punta della Zogana. L'alternanza scuola lavoro è un momento della nostra carriera scolastica che io e i miei compagni abbiamo deciso di passare a Palazzo Grassi. Abbiamo pensato di intrattenere i giovani della nostra età con musica suonata appunto da tre DJ del territorio, DJ Carra, Ritz e Petz. Grazie alla mia scuola ho partecipato al progetto Palazzo Grassi d'Inse. È stata un'esperienza molto bella e interessante e altrettutto divertente. E grazie a questa esperienza ho scoperto come funziona un museo e come organizzare un evento. Durante lo svolgimento di questo progetto abbiamo visto sia la mostra che c'è in corso nelle due sedi di Palazzo Grassi e appunto la Zogana e abbiamo realizzato un trailer inerente a questa mostra e abbiamo anche organizzato l'evento Aperitins di cui andiamo molto molto fieri. Palazzo Grassi e Teens è una bellissima esperienza perché permette di avvicinare i giovani all'arte contemporanea. Grazie a tutti. Grazie a tutti.